I lavori per raffreddare i reattori di Fukushima Daiichi subiscono una nuova battuta d'arresto. Le autorità nipponiche hanno proceduto all'evacuazione del personale presente alla centrale nucleare dopo che fumo nero è uscito dal reattore numero 3, accompagnato da un innalzamento della temperatura anche al numero 1 che ha sfiorato i 400 gradi, quasi 100 gradi in più rispetto al livello massimo previsto. Nella zona dell'impianto si è anche registrata una nuova scossa di terremoto, quasi 5 di magnitudo, anche se non avrebbe provocato ulteriori danni, ha fatto sapere la TEPCO che gestisce l'impianto. La sede della società a Tokyo è stata a teatro di una manifestazione di protesta. Cresce infatti l'insofferenza nei confronti della TEPCO, nel cui passato ci sono scandali o omissioni, così come sembrano essercene nel suo presente.